Ciao sono Grokenji e oggi siamo nuovamente qui su PlanetSide 2 per questo ultimissimo video Ok, che cavolo di cazzo, ne? Comunque, questo ultimissimo video, come vi dicevo, e quindi oggi dovremo vedere qualche botto Cercheremo di trovarlo, perché non essendoci i fuochi d'artificio dobbiamo trovare qualcosa di simile Uh, eccolo lì, tutto che salta in aria, yeee, i fuochi d'artificio, yeee Uh, che diavolo era? Ah, mi avete detto l'emmierino, probabilmente lo cambierò nel prossimo episodio Devo darci ancora un'occhiata, non ho ancora avuto tempo di guardarlo, comunque Yeee, i fuochi, sì E un po' si è morto Ancora vivo, ancora vivo, guardalo, guardalo Guardalo, ok Sì, qualche fuocherello l'abbiamo visto Che bella esplosione Loro sparano anche dall'altro, quindi dovrebbero esplodere abbastanza pure i nostri Uh Cosa c'era su? Cosa c'era su? Sì, 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 sì Speriamo la difendano bene, così vediamo un po' di azione Allora, vediamo Dove possiamo andare Uh, eccola, un'altra esplosione Si sembrano proprio le fuochi d'artificio, adesso si Uff, uff, guardalo, guardalo Ah, si esplosa Peccato Allora, allora, allora Stiamo continuando a sparare C'è questa carcassa Uh E qui abbiamo Sunderer, molto bene Che diavolo è? Oh mio Dio Ho due kill già, eh, di oggi Uh Si vede che è l'ultimo dell'anno, eh Oh, scusa, 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 scusa Scusami Ti chiedo scusa Ci voleva, eh, una kill Anche l'ultimo dell'anno Accettiamo pure Mi ha anche curato, che bravo WEEEEEEE Anche se è il mio, almeno Ecco Vediamo un po' di Di azione Comunque questo va mi ha preso in pieno Vediamo un po' come si Siamo tra i 24 e i 48 A testa Quindi siamo Dovremmo essere circa un centinaio Per questa base Quindi la cosa Si prospetta abbastanza difficile Cerchiamo di... Le due Dallo stesso Con calma, con calma Aspettiamo i tre secondi E andiamo A conquistare la base Buuuuia Scattate, scattate Oh, stavo per sfuggire Allora, l'unica Qua possiamo prendere Questi sono i carri armati principali Però non possiamo prendere gli aerei Voglio prendere un aereo Voglio prendere un aereo No, probabilmente possiamo anche prendere gli aerei Probe Ok Sto perdendo troppo tempo Quindi da sopra Oh, sì Perfetto 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 Li abbiamo Li abbiamo Li abbiamo Uno no Eh Stanno anche sparando da dietro Ma Questo fa è migliore Corri, corri Non ho visto che c'era L'intera truppa qua Abbiamo ancora Lo spawn qua Ma è troppo lontano Cioè Non è troppo lontano Troppo lungo di tempo Quindi Tanto qua è sempre notte E ci ammazzano sempre Sta facendo occasione di kill Grazie a me Quel coso Abbiamo perso Quello Allora io direi Di provare a far così Tanto Se dobbiamo fare Le cose fatte bene Vado a prendermi L'aereo piano Che va piano Uh Ok Galaxy No Ok Prendiamo il Valkyrie Questo non l'ho mai provato Generiamolo Ok Nanananana Nanananana Oh No 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 Ok Ok Così lo mi Bello eh Possono starci sei persone Invece io Ci vado da solo Posso spararmelo Non posso sparare Oh cavolo E allora Sarà una bella morte Questa Uh Vai vai Accederà No Non posso neanche Usare Quello Però ho perso L'obiettivo Tanto qui si sparano Uiii 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 Ok Sono là Sono là Sono là Andiamo Vi porto A spasso Io Oh Nanananana Eccola là Eccola là Andiamo A farci uccidere Sto arrivando Visuale figa Non posso sparare Ok Però la stiamo Prendendo La stiamo prendendo Con calma Con calma Siamo Oh cazzarola Oh cazzarola C'ero quasi Speriamo ci sia un medico Spero che c'è un medico qua Come no Siamo 50% A testa La cosa Non ci fa tanto bene Perché Loro sono in una posizione Muuuuto Vantaggiata Muuuuto E io non riesco neanche a serire le scale Ok Carri di servizio Che non so Qualsia Ma che bene Sì Madù Allora abbiamo Abbiamo un minuto e quindici Qua Qui acquisizione Carrクermatti Primari Reduzione Torretta ... è possibile che non posso prendere altri aerei qua vicino o sono io che sbaglio a vedere ok ok stanno aumentando loro ma 48,96 quindi sono una cinquantina se ho usato l'abilità di classe lo so però se mi sparano in 10 l'abilità di classe mi serve a una beata mazza oh ecco questo sembra di aver visto un po' di rosso questo buio chi mi spara chi c'è qui nessuno no però ecco botti 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 proveremo un ultimo disperato attacco non so riesco a capire dove arrivi uh arrivan da la da la da la c'è qualcuno che rompe ok mille mille qui continuano a sparare anche da sopra sto qui a posto mi stanno passando non voglio morire non voglio morire arrivano anche dalla collina curatemi cavolo curatemi ok rifornici no non mi è giusta la vita jabbalahut grazie jabbalahut l'erodora mi sa che ci tocca ritirare tutto l'ambaradam quindi diciamo che i botti ne abbiamo fatti ecco questa penaria eh buf belle le torrette ma chi è che può mettere queste torrette? sarà l'ingegnere? credo di sì no la sì da lassù uuuuuh ecco ho preso in piena bene non ce la possiamo fare ragazze non ce la possiamo fare quindi direi di allontanarci da qui anzi ritorniamoci ma tanto ecco ci stanno uscitando quindi io direi che anche per quest'anno è tutto come sempre commentate iscrivetevi un bel mi piace e al prossimo anno ciao